Buongiorno cari ascoltatori di Radio Maria. Il libro di Padre Livio che vi presenteremo oggi si intitola La Confessione, sottotitolo Dove il cuore trova pace, edit da Sugarco. Il motivo per cui Padre Livio ha scritto questo libro è molto semplice, aiutare la gente a scoprire la bellezza e la grandezza di questo sacramento che è la più grande espressione della Divina Misericordia, poiché attraverso di esso ci viene dato il perdono dei peccati, veniamo riconciliati con Dio, veniamo rivestiti della grazia santificante e con Cristo siamo incamminati verso la vita eterna. Questo sacramento, che è il segno della misericordia, molto spesso viene da noi vissuto come se fosse un dovere, un'oppressione. In realtà il sacramento della confessione risponde molto bene ai bisogni della natura umana che ha bisogno di sentirsi capita, perdonata, incoraggiata e liberata da ciò che la opprime. Leggiamo ora la trama del libro. Sotto il profilo esistenziale la confessione è una grande esperienza di pace. Si tratta della pace del cuore, che è uno dei beni più preziosi che l'uomo possa avere sulla terra. Serve a poco avere beni materiali quando dentro siamo inquieti, perché la coscienza non ci dà tregua. Il male che facciamo ci corrode fino a consumarci e ci impedisce di gioire della vita. Non vi è momento più felice di quello in cui senti il perdono di Dio scendere sulla tua anima, come un balsamo che cura le ferite e le rimargina. Ti senti leggero e hai l'impressione che il cielo si spalanchi sopra il tuo capo. Hai la possibilità di ricominciare la vita di nuovo. È davvero un miracolo. È un libro molto semplice che però si propone di scoprire un tesoro straordinario che Dio ci ha dato, il sacramento della confessione. Si parla di crisi della confessione. In realtà Padre Livio ci dice che nel corso dei 2000 anni del cristianesimo le modalità esterne con cui la confessione si espressa sono cambiate e anche oggi ci sono segni di ripresa molto forti. Ciò avviene quando questo sacramento è capito e viene amministrato nei dovuti modi, cioè come segno di misericordia, di rinnovamento della propria vita, di rinascita spirituale e quindi come sorgente di pace e di gioia. Questo lo si riscontra ad esempio nei grandi incontri giovanili della giornata mondiale della gioventù. Quando i sacerdoti sono a disposizione, i giovani si confessano volentieri. La confessione non è un ramo secco ma una pianta sempre verde. È un sacramento istituito da Gesù Cristo, una sorgente di pace e di gioia del rinnovamento spirituale. Potrete richiedere questo bellissimo libro scritto da Padre Livio, chiamando il nostro ufficio informazioni allo 031 610 600, scrivendo un'e-mail a info.ita-radiomaria.org oppure ordinandolo direttamente online sul sito www.radiomaria.it. A tutti voi cari ascoltatori, un augurio di una buona lettura!